Gioca Cancelo! Partita che sembrava... Dai, giochiamo in modalità sopravvivenza, dai. Sì, vai, subito, assist, tornate. Grande gemme! È gol! È il potenziale da cross. È troppo forte il portiere, chi è? Gioca Cancelo! Ciao, sei tu? Ha fatto gol! Cancelo! Un alzelo! Cancelo, elimina Cancelo. Vai! Ciao, ciao, Giuliano. Come mai fa gol Cancelo, ragazzi? È sparito, mi stiamo andando dal campo. No, giochiamo un uomo o meno, non c'era un altro. E vai! Con il cucchiaio! Mamma mia! Lui giocava ogni giorno. 2 a 0, grazie, tutti a casa. Finisce la gara. Sono rimasto così, o? Giochiamo alla modalità, niente regole. Eh, fai gol allora! È vero che sei gol! Che, che, che ridurre! Non ci sono regole qua, oh! Che sono vero! Eh, non lo sai giocare, giochi bene, ciao! Voi, voi siete macellari, comunque! Tira! Fai palo, fai palo, fai palo! Non ho quell'occhio, non ho tanto. Risa, parti! Sono così, voi devi giocare. Su, su, dai, su! Tutti a casa lìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ciao